buongiorno kamikaze in bici oggi è proprio da dire kamikaze oggi escursione all'alpe di neggia proprio come un vero kamikaze sono senza attrezzatura quindi girerò i video con il telefono cercherò di fare del mio meglio e sarà appunto un video un po' così però cercate di accontentarvi delle immagini che potrò regalarvi mi sento bene non come l'ultima escursione al san bernardino sto un po meglio sono le 16 20 vento come preannunciato sempre fortissimo in faccia mi auguro che al ritorno non cambi e ci vediamo tra un po ciao strada per la dogana di dirinella lago maggiore sulla destra e le montagne sulla sinistra un po maggiore se riesco a farlo vedere siamo a vira se il lago non si fosse visto prima salita dalle rampe micidiali non molto simpatica anche al mio amico luca ma no purtroppo anche oggi devo dirvi che non ce l'ho fatta ancora presto buongiorno Grazie a tutti. Grazie a tutti.